oggi vi presento come si mette un video o un suono sulla rappresentazione powerpoint apriamo la nostra rappresentazione powerpoint che vogliamo aggiungere la mettiamo giù cerchiamo il nostro file dobbiamo ricordare dove è per esempio io voglio mettere questo file qua sentiamolo ok so il file dov'è apro vado alla prima diapositiva metto inserisci audio scegliamo qualsiasi suono io prenderò audio da file vediamo dove l'abbiamo messo andiamolo a prendere e questo lo inseriamo viene inserito con questa incona allora questa incona la mettiamo fuori o anche dentro non è un problema andiamo su produzione nascondi durante la presentazione e diciamo di produrre durante la fase anche durante il passaggio tra le diapositive in più gli diamo esegui ciclo completo facciamo una prova anche passando le diapositive continuo ad andare avanti finirà quando arrivo cliccato in mouse per la fine che dopo questa pagina e finirà finirà